2-1 della Fiorentina a San Siro sull'Inter in una partita che non contava in verità molto ma ha confermato però quanto valga Antonioni quando ne ha voglia. Guardate queste sue due punizioni, 15esimo del primo tempo fa un segno strano ad un compagno, poi tira, palo perfetto, stupendo. 20esimo del secondo tempo ancora lui, tiro ancora di punizione e Bordone questa volta compie una prodezza. L'Inter ha giocato di più ma ha fatto anche molta confusione, a ragionare erano i soli Scanziani, Marini e Chierico. Ma vediamo i gol, arriva prima l'Inter al decimo, da destra, Fedele, eccolo, passa a Doriali, c'è un centro teso, Altobelli fa da sponde, Muraro non fallisce ed è gol. La Fiorentina però non scherza ed è più svelta negli affondo. Al diciottesimo il pareggio, Di Gennaro scende sulla destra e centra per Restelli, tiro debole ma in effetto, Bordone non trattiene e Stella in sacco. Poi nel secondo tempo il capolavoro della Fiorentina o meglio di Restelli, Lala tocca a Stella e va via. Il centro avanti gli ritorna la palla e guardate, tunnel a Chierico, poi va via a scartare come birilli gli interisti. Potrebbe essere il gol della domenica. Lui raccoglie la braccia dei compagni e la Fiorentina gli ultimi due punti del campionato.